Eccoci collegati, duetto mix, il nostro Simone Tamelli regia, come bello attivo, fa filare tutto, ti vedo un po', fatti un po' vedere, dai, zero proprio, dai che ti conoscono tutti, smetti la, dai, allora ripartiamo di nuovo a quello che stavamo dicendo prima, intanto ricordiamo i nostri contatti al 366-9806-655, contatto Whatsapp oppure se no contatto Facebook duetto mix e stiamo parlando della U-Globe, l'evento che ci sarà domenica al Casablanca Reggio Emilia, ok, un mix tra musica, fotografia, leggo dalla locandina black and white, ma ragazzi, ma che, ma mi volete spiegare un po' che succede? Allora, la serata diciamo l'aprirò io, ok, ma l'apri nel senso con le chiavi? L'apro proprio con le chiavi, l'apro la porta e far entrare la gente, sai che io entro poi esco, ok, e diciamo che la mia parte di DJ set si svolgerà essenzialmente dall'aperitivo, quindi dalle ore 18.30-19, con musica più o meno, musica atmosfera, di pause, tech house, un genere abbastanza ricercato, non un genere mai scontato, diciamo, una buona ricerca musicale pensavo di fare, per poi proseguire con il live del nostro gruppo con Lola Montez and the Stalkers e finire magari con un po' di pop, un po' un po' commerciale, fino a che ci sarà gente, diciamo, ok. Il live che andremo a fare sarà un live acustico, quindi il trio Lola Montez and the Stalker è composto da io che sono il gittarrista, Lalle, Lola Montez che sarebbe la cantante, e Ste che è il percussionista, quindi tre strumenti acustici e proporremo un repertorio di successi internazionali, dai Beatles, agli Stones, a tre strumenti acustici. Cosa è serie qua, eh? Avanti, c'è cosa è avanti, mica. Siamo mica qua ad asciugare gli scopi. Giusto, 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 giusto. E tutto questo, mentre saranno proiettate le foto, appunto, del concorso fotografico. Le foto che hanno un tema ben specifico, che è Reggio Miglia, in bianco e nero. Ok, black and white. Black and white, assolutamente. E fino ad oggi, anzi fino a domani, perché abbiamo una richiesta. Abbiamo allungato un po' il tempo. Sì, abbiamo. La grossissima richiesta. Allora, a grande richiesta, abbiamo allungato il tempo per spedire le vostre foto. Ricordo l'indirizzo email per inviarci le vostre foto per partecipare al concorso fotografico Reggio Emilia, in black and white, info, chioccioloyoglobo.it. Ok. Ricordiamo il premio per il contest fotografico. Ah, perché c'è anche un premio. C'è anche un premio, ragazzi. Ragazzi, sì, ma partecipiamo anche io e te, scusa. Ma sì, ma facciamo due foto, no? Ti faccio vedere io che atmosfera gli do questi ragazzi, guarda. Il premio per il contest fotografico sarà una stampa a livello professionale, delle prime tre foto più votate, perché le foto verranno votate durante la serata. Ok. Cioè, quindi, per far capire meglio, nel senso, i concorrenti invieranno le foto a info, chioccioloyoglobo.it e poi verranno selezionate. Sì. Ok. Che verranno, diciamo, verrà creato una sorta di... Cioè, ci sarà una giuria comunque? No, non c'è la giuria, la giuria siamo noi. Ah, la giuria la fate voi direttamente in serata? Sì, i partecipanti della serata, quindi chiunque potrà votare la sua foto preferita. La giuria è popolare. La giuria è la giuria popolare, bravo Checco. E come si fa? Cioè, abbattito di mani? No, allora, diciamo che... Sono un po' un scassaballo, eh. Ma lui fa le domande. Oh, devo capire, perché io giustamente devo... Durante la serata. Perché se vengo domenica io voglio partecipare. Ma certo, e dovrai anche votare la tua foto preferita. Appunto, infatti devo capire come devo fare. Ti verrà dato un bigliettino nella quale potrai esprimere il tuo voto, che sarà il numero della foto che tu vedrai proiettata sul, diciamo, sul maxi schermo. Ok. E scriverai la tua foto preferita e quindi potrai esprimere in questo modo il tuo voto. Ah, ok, 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 ok. No, no, io ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Faccio finta di aver capito, poi me lo rispiegare. E l'altro è arrivato. Ricordiamo che le foto vincitrici, le prime tre foto più votate, verranno stampate e esposte nel locale, quindi in Casablanca, Reggio Emilia, Via Cesare Magati 1. Ok. Per il periodo di maggio e giugno. Maggio e giugno. Maggio e giugno. Ok, in modo che tutti e poi gli altri futuri clienti possano andare a vedere. Magari ti scultano sulla foto perché... C'è anche quello che non è stato, che non è d'accordo. Io dopo il voto... Ho capito, beh, sono un po' drastico, è una cosa, la vedo tutta a modo mio. Ok, 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 ok. Lanciamo il... Avete fatto comunque il vostro video di introduzione, diciamo che avete pubblicato. Cioè, chi vuole delle altre info o direttore... Cioè, vi può seguire dove, su Facebook, cosa... Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, giusto? Pagina Facebook, Instamusic. Ok, che è il... Che è proprio il nome dell'evento. Dell'evento. Che è l'evento di guarda novità. Organizzato, comunque ricordiamo, da Google. Certo, sì. Ok. E quindi sulla pagina Facebook verranno poi esposte le fotografie vincitrici. Ah, anche su Facebook. E qui sicuramente verrà aggiornato il calendario, perché abbiamo intenzione di non fermarci qua, ma di proporre altre serate. Altre serate a chi vi dà la possibilità, oppure robe varie, di farle un'altra. Grazie, veniteci a trovare. Ok, vi aspettiamo tutti domenica dove? Al Casablanca, alla Gioviglia. Ok. Via Cessere Magati 1, alle ore 18.30. Ok, e chi non viene è uno sfigato. No, scherzo. Ok, 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 scherzo, scherzo. Era la mia... Lanciamo il promo e poi torniamo direttamente con noi. Anzi, lanciamo direttamente il brano successivo, oppure no. No, ritorniamo di nuovo. Ok. No, ritorniamo di nuovo. No, ritorniamo di nuovo. Ok, ok, siamo di nuovo tornati. Sei tu l'artista della base, ci dicevi, eh? Volevi con i meriti, l'ho fatta io. Ma ragazzi, ma questo sarà un ritrovo di artisti fondamentali. Sì, 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 dai, nuove leve, nuovi artisti che si mettono dentro. È giusto, è giusto, è giusto. Quindi, niente, noi vi salutiamo, è stato un piacere avervi qui con noi. Noi vi ringraziamo ancora per averci dato questa possibilità. Quindi ci vediamo domenica. Ovviamente venite anche voi. Sì, io dopo aver fatto tutto nel tale serata, arriverò anch'io come ultimo. No, no, io ci vado, ci vado, ci vado, vado a fare un salto. E ricordiamo, al Casablanca, dalle 18.30, ok? E music, foto e tutto il resto. Sarà sicuramente una bellissima serata, vi aspettiamo numerosi. Ah, comunque poi ci sarà anche da bere. Certo, sì, però. La gente pensa solo a mangiare, a bere. Ma non vi preoccupate, c'è sia da mangiare... Ci sono anche degli alcolici, tranquilli, tranquilli. C'è tutto. Ci sono alcolici, c'è music, ci sono le foto, ci sono delle bellissime ragazze, bellissimi ragazzi, tutte di più, c'è Simone, c'è tutti. Io sto a casa, ovvio, io non partecipo neanche. E naturalmente ingresso libero. Ingresso libero, fondamentale. Sì, sì, fondamentale. Ok, salutiamo. Un piacere a voi. Andiamo avanti con il prossimo nostro disco, Don't Speak.